Con Barbara Larocca, eccoci qua allora, quindi innanzitutto vedremo anche il filmato, le immagini, quindi grandissimo evento, penso che sia andato tutto bene, quindi parliamo di All Star Games che si è svolto? Il 25 febbraio nel campo della Stella Azzurra, quindi ecco, grandissima partecipazione, quindi quattro squadre mi sembra? In realtà abbiamo mischiato un po' tutte le carte, nel senso che per far partecipare più giocatori possibili abbiamo deciso di unire i quattro gironi, i migliori giocatori, tre giocatori di ogni società che hanno composto una squadra e così abbiamo miscelato anche gli allenatori in modo tale che l'obiettivo era quello di aggregare e condividere ogni girone, potevano tranquillamente condividere tra di loro tutti i momenti che hanno in campo che magari non sono soldi. Questo domenica 25 febbraio, 25 febbraio sì, c'è stato lo Star Games, nel frattempo noi siamo partiti con il corso allenatori, istruttori, mini basket e allenatori di basket con Maurizio Mondoni Dovremo avere anche le locandine, quindi parliamo con mini basket, questo è mini basket, eccolo qua Sì, per noi è stato un successo perché è il primo anno che viene fatto questo corso e abbiamo ottenuto dei numeri molto importanti, superiamo le 35 unità che per essere la prima volta per noi è tantissimo E invece l'altro corso? Mentre l'altro corso è nato da un'idea proprio con la Smith e quindi Roberto, era quello proprio di portare, di far crescere i mini arbitri nel mini basket Quindi referi, il corso mini referi Mini referi, sì, nel mini basket, sì, noi vogliamo semplicemente questo Quindi per inculcare già ai bambini il ruolo dell'arbitro, no? Far capire Far capire anche dal punto di vista E questo penso Giocare con le regole Giocare con le regole Giochiamo con le regole, sì, deve essere un gioco perché sennò non li appassioniamo Ecco